Livio Petitto torna ufficialmente nel Partito Democratico. Ricevere il bentornato dal segretario Enrico Letta ha un sapore ancora più speciale. Ha scritto sui social il consigliere regionale. Orgoglioso di far parte di questo progetto, guardiamo al futuro e alle cose da fare con passione e impegno. Lo attendevano in tanti, soprattutto gli militanti e amministratori di questa provincia. È arrivato al termine di un percorso lungo che è iniziato all'indomani dalla mia elezione in consiglio regionale. C'è però da chiarire il rapporto tra il partito e il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, di cui Petitto è tra i principali sponsor politici. Nessuna contraddizione, c'è tutto il tempo per recuperare. Abbiamo fatto un accordo con l'altra parte del PD che poi è venuta meno, subito dopo l'elezione del presidente della provincia, con quel ricorso che ha escluso dai tesserati di consigliere gli assessori del comune di Avellino. C'è tutto il tempo per recuperare, effettivamente Gianluca Festa non vorrà. E intanto il primo banco di prova saranno le amministrative ad Atripalda e Solofra nel mese di giugno. Nei comuni chiamati al voto non mi risulta che ci saranno liste di partito. Quindi ognuno sosterrà i propri amici, i propri referenti sul territorio. Lo faremo reglientamente così come abbiamo sempre fatto. Grazie.